I carabinieri del nucleo di Napoli-Centro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dalla procura nei confronti di un 35enne partenopeo, accusato di essere l'autore delle cinque rapine susseguitesi tra le arterie del centro storico negli ultimi giorni. Da quanto è emerso, l'uomo già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale sarebbe uscito in orari non consentiti e avrebbe compiuto i furti tra Piazza Matteotti e Via Toledo, una zona che soprattutto in questo periodo è gremita di turisti. Solitamente utilizzava un coltello o un paio di forbici per intimare ai passanti di consegnargli denaro o oggetti di valore. I militari dell'arma sono riusciti a risalire al malvivente grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza dei tanti negozi che sono presenti nell'area. L'operazione è scattata dopo le molteplici denunce che sono giunte alle forze dell'ordine da parte delle malcapitate vittime e ha visto la compartecipazione dell'autorità giudiziaria.